Il peggio è passato. Un peggio, quello del cosiddetto covid estivo, fortunatamente non caratterizzato, come nel 2020 e nel 2021, da tanti decessi e tantissimi ricoveri, ma da una fastidiosa influenza certificata virale solo attraverso il tampone e che soprattutto a giugno e a luglio ha costretto a letto tantissime persone. I nuovi numeri forniti dal Ministero della Sanità e che riguardano la settimana compresa tra il 15 e il 21 agosto confermano la tendenza alla discesa già emersa nel report precedente. Parlano infatti di una diminuzione del 16% di nuovi casi rispetto alla settimana precedente, di una diminuzione dell'1% dei decessi, del 28,1% di soggetti in terapia intensiva e del 4% di ricoverati con sintomi. Si tratta di numeri in alcuni casi nettamente inferiori rispetto a quelli delle osservazioni precedenti, nello specifico andando a vedere la situazione che ci interessa direttamente, ovvero quella riguardante il Lazio, nel periodo considerato c'è stata una nettissima diminuzione di nuovi casi, passati dai 2.299 della settimana dall'8 al 14 agosto ai soli 286 di quella successiva. Nel contesto nazionale il Lazio fino a due settimane fa, secondo solo alla Lombardia in quanto a nuovi casi, adesso è passato al quarto posto, preceduto sempre dalla Lombardia, dalla Campania e dal Veneto. La provincia di Roma in particolare è passata dai 41 casi ogni 100.000 abitanti che si registravano nel precedente report agli attuali 32. Insomma, anche se il numero dei tamponi è nettamente diminuito, si può dire che ormai siamo fuori da questa ennesima e fortunatamente lia condata. Come già scritto la scorsa settimana, evidentemente la variante KP3, che ha iniziato il suo percorso virale partendo dagli Stati Uniti, ha ormai quasi esaurito la sua efficacia.